Il verbo Il verbo è una parte variabile del discorso, cioè una parte che può cambiare forma e può indicare un'azione. Mangiamo Una situazione, piove o un modo di essere Sono allegra Ciascun verbo è formato da una parte fissa che contiene la radice, gioc,iamo, che racchiude il significato della parola e da una parte variabile chiamata desinenza, gioc,iamo, che può cambiare e darci molte informazioni. Grazie alla desinenza possiamo capire da quale persona è compiuta o subita l'azione, in che modo è espressa, in che tempo è avvenuta e a che coniugazione appartiene il verbo. La persona può essere prima, seconda o terza e singolare o plurale. Ad esempio, dalla desinenza del verbo gioc,iamo, capiamo che l'azione è compiuta da un noi, cioè una prima persona plurale. Alcuni verbi, però, non ci danno indicazioni sulla persona. Sono i verbi di modo indefinito. Ma che cos'è? Un modo verbale I modi del verbo indicano il modo in cui si svolge un'azione o si verifica una situazione. Il modo indicativo indica un'azione certa. Io adesso gioco. Il modo congiuntivo, un dubbio o una possibilità. Non è sicuro che oggi io giochi. Il modo condizionale esprime un'azione che potrebbe accadere solo in certe condizioni. Io giocherei se ci fossero i miei amici. E l'imperativo, un comando, gioca. Questi modi sono detti finiti perché indicano sempre la persona che compie l'azione. I modi indefiniti sono invece l'infinito, giocare, il participio, giocato e il gerundio, giocando, e indicano un'azione senza specificare la persona che la compie. Ciascun modo può racchiudere diversi tempi. I tempi del passato, se l'azione è già conclusa. Io ieri ho giocato. Del presente, io oggi gioco, se l'azione è in corso. E del futuro, io domani giocherò, se l'azione deve ancora avvenire. Infine, osservando la desinenza dei verbi al modo infinito e al tempo presente, possiamo capire a quale coniugazione appartengono. La coniugazione è un gruppo di verbi con le stesse desinenze. La prima coniugazione contiene il gruppo dei verbi inare, giocare. La seconda coniugazione, quello dei verbi inere, temere. E la terza coniugazione, il gruppo dei verbi inire, dormire. Ci sono verbi come essere o avere che hanno caratteristiche uniche e infatti si dice che appartengono a una coniugazione propria. Grazie.